Bruta partita, perché abbiamo faticato su dei fondamentali che per noi devono essere una sicurezza, abbiamo faticato troppo in ricezione e da quello poi è partita una confusione in campo anche su momenti facili, tipo coperture facili, appoggi facili, per cui abbiamo perso la nostra continuità in cambio di palla che per noi deve essere una garanzia, ogni partita a sé, a Pesaro è stata una partita finita nel 3-0 poco tempo, a quarta e secondo set dopo non c'è stato molto gioco, però partita archiviata, noi siamo venuti in campo per fare bene, però poi quando cominciano a mancare delle sicurezze fondamentali, dopo facciamo fatica, oltretutto loro hanno giocato, hanno difeso tantissimo, per cui non era facile buttare giù la palla, sempre parlato così, niente, penso che questa più o meno è la chiave della partita più alta. Sulla classifica noi dobbiamo assolutamente mantenere il quarto posto, più o meno è invariato perché Gusto probabilmente si è avvicinato di un punticino, però voglio dire andare a buttar via adesso comunque il lavoro di una stagione sarebbe un peccato, per cui dobbiamo assolutamente con i denti, con le unghie in tutti i modi mantenere questo quarto posto per poi avere la possibilità di fare due partite eventuali in casa.